Ok ragazzacci andiamo con un altro gameplay di Gundam Breaker 2 poi magari non so se nel prossimo cerchio di potenziare qualcosa comunque qui ok sono state sbloccate due missioni nuove ok andiamo qui allora vai procediamo nell'ordine giusto no perché qui bisogna ragionare un po' su questo gioco perché può sembrare facile ma non lo è ragazzi ve lo posso garantire vi posso garantire che può sembrare ma non lo è allora andiamo vediamo un po' di proseguire alla grande qui ma veramente alla grande vai in grande stile vai brado ok iniziamo anche questa missione credo che farò tutto in un unico gameplay se è una durata decente diciamo no nel senso che non va oltre i 30 minuti dai mettiamola lì ma non credo ottimo bradone così ti voglio ti voglio così ti voglio per spolverare come si deve io cercherò di correre qui su Gundam in modo che vi porto anche il Gundam Breaker 3 così siete tutti più contenti siete contenti perché chi ama questa serie chi ama Gundam ragazzi non può farne a meno e la allora senti tanto se hai capito che voi contro di me non avete i mezzi giusti per abbattere il mietto e questo lo sappiamo e si è capito già dall'inizio quindi io direi che dovete stare calmi anche se anche se un po' di difficoltà la piazza non è perché vedete qui energia scende e scende anche abbastanza quindi comunque devo fare un po' d'attenzione però per il resto si può fare tutto ragazzi ok tranquilli tutti qui ottimo brado ottimo 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 andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua su che sono bello carico oggi sono carico peggio di una molla ragazzi eh ve lo posso garantire perché è così è così poi a me giocare a questi giochi di Gundam qui mi piacciono quindi dov'è la mia testa la mia testa torni ce la fai niente arrivo io vabbè ecco la mia testa ragazzi ecco la mia super testa possiamo andare possiamo andare ok dai tranquilli tranquilli che piano piano il gioco credo che riuscirò a finirlo eh piano piano eh tanto più avete visto che bisogna anche salire di livello quindi per sbloccare pezzi più potenti secondo me eh serve a quello serve a quello vi dico che il livello di potenziamento massimo il level cap massimo di questo gioco è di 999 ragazzi eh non è uno scherzo e non so neanche se magari qualche giapponese folle ci è arrivato ma degli italiani che ha questo gioco non so se qualcuno ci è arrivato ma il mio obiettivo è arrivare a quel livello lì ragazzi magari non per chiudere la serie perché la serie magari riuscirò a chiuderla con un level cap minore però poi io continuerò a giocarlo perché voglio raggiungere il livello 999 ragazzi c'è poco da fare poi se mi impunto su una cosa lo faccio io eh no vai energy brado la mia testa la mia testa eccola qui ridatemi la mia testa via ok perfetto perfetto vai ragazzi come mi diverto oggi mi diverto oggi mi diverto alla grande alla grande vorrei farla super la chiamo così ragazzi però non sono molto convinto non sono veramente molto convinto quindi ok andiamo così andiamo bene così vai la strada è qua la strada è di qua ragazzi vedete eh questa è la strada da fare eh eh no bisogna tornare dietro stavo andando male non mi fate imbrogliare oh si mettono lì dobbiamo andare qui ecco qui dobbiamo affrontare i balordi vedete guardate quanti ce ne sono pieno di balordi qui vai andiamo niente ok vai bradone grande così grande così eh questo qui ha abbastanza resistenza ragazzi però non mi spaventa non mi spaventa affatto andiamo di qua e andiamo di qua dai eh beh ci vuole stile per fare certe cose ci vuole stile ragazzi dove sono i balordi? ah no ok bisogna andare di qua ecco la strada giusta io credevo che bisognava andare di là però vabbè dai c'è stata una piccola deviazione diciamo no? eh eh ma va bene così va bene così no e vabbè qui sono costretto ad usarla eh sono costretto maremma ma che scherziamo? stiamo scherzando? oh fate il vostro lavoro che poi vi pago eh tranquilli che poi vi pago bisogna vedere se vi pago lo dico poi bisogna vedere se lo faccio ottimo così vai energy energy che bordello qui ho detto che inizia a essere complicata no? voi non ci credete? eh vabbè non credete a quello che dice brado ragazzi cosa devo fare io? vai fuori uno se non ci pensavo io se non ci pensavo io lì solo io posso pensarci qui eh ok ok allora lì dove mi porterà? non lo so ma adesso io devo pensare ad abbattere questi ce ne sono tanti eh ok lì c'è il target guardate qui aspettano tutti me? aspettano tutti me ragazzi ok dai che posso farcela dai che posso farcela andiamo andiamo così andiamo alla grande su ottimo ottimo brado mi piace mi piace oggi oggi sei molto aggressivo qui su Gundam iniziamo a potenziarsi insomma eh e là vabbè mi metto un po' di salute io tranquilli vedete sta calmi state calmi che qui faremo tutto faremo tutto a tempo debito guardate che casino questo livello è un casino ragazzi qui io vi dico la verità Gundam Breaker 3 l'ho provato ho visto solo l'inizio quindi però non ho ancora iniziato a registrarlo quindi devo concentrarmi sul 2 adesso così chiudiamo il 2 e si può partire con il 3 allora senti tu puoi essere anche grosso quando vuoi ma io sono più forte di te e su questo non ci piove no vai energy brado energy che bordello che è qui ragazzi che bordello vabbè ma ce ne sono troppi ce ne sono troppi dai cosa ti racconta tutti questi cosa ti raccontiamo vabbè non vorrei che c'è magari qualche porta a chi da chiudere no bene sono tanti sono tanti brado ce la faremo ce la faremo brado cosa dici eh sarei molto brado da farcela a far questa missione ottimo così qui andiamo al livello 60 ve lo dico eh ci penso io a me ci penso io a me stesso niente niente ok vabbè lui voleva tentare di scappare ma per il resto sa di non poter affrontare brado quindi ok tutti questi fatti difficili li sto facendo io in pratica non mi aiuta nessuno come si può vedere e vi do le prove di questo che non mi aiuta nessuno vai con l'energia qui ottimo ottimo così veramente ottimo così vai vai così bradone vai salta qui niente ok vabbè sono un botto da distruggere una missione fantastica missione molto aggressiva qui eh vabbè sono anche disceso giù ma dai vado anche fuori pista ragazzi no devo tornare lì vado anche fuori gli orizzonti che bordello qui che bordello ragazzi che bordello a far tutto da solo perché è tutto da solo sto facendo la fine dai gli ho fatto il culo gli ho fatto il culo perché stendi giù dai resta lì resta lì no eh vabbè qui sotto c'è qualcuno a quanto pare sì eh a quanto pare sì e te pareva te pareva che aspettano sempre me ma ma che scherziamo aiuto ok ci penso da me faccio anche fai da me ottimo così bradone vai andiamo avanti chi c'è qui ah ok arriva l'antibba lordio non sono facilissimi questi qui da battere ora perché io sono un po' potenziato altrimenti non credete che era semplice questo gioco di semplice non ha proprio nulla dal menu a tutto il resto dai che devo chiuderlo devo chiuderlo qui qui che c'è niente vabbè andiamo qui va andiamo di qua andiamo di qua ok allora dov'è dove sono i balordi dove sono ah lei devo rianimare un mio compagno un attimo eh distruggo questo e arrivo a darti una mano Ciccio vediamo un po' se posso rianimarlo puoi non dire che non sono bravo eh dicono sempre che sono brado ecco allora oramai ho questa rinominata addosso questo brado vediamo un po' se manca poco la boss fight io credo che potremmo esserci sulla boss fight io credo che manca poco questo è un mio pensiero magari di sbaglio ma vedremo ai 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 ecco dopo di questo ci sarà la boss fight chi mi aiuta qui non mi aiuta nessuno vediamo un po' se riesco a farmi il culo anche a questo anche se devo alzare i ritmi eh devo potenziarmi un altro po' che qui inizia ad essere veramente un po' complicata la situazione ok così grande bradone grande bradone qui ok andiamo avanti andiamo avanti e tra poco ci sarà la boss fight ragazzacci sono sicuro di questo sono sicuro di quello che dico e vabbè quanto ne asfalto qui ne asfaltiamo un po' ragazzi dai magari a prendere un brado S anche qui sarebbe il top eh sì banda di balordi maledetti che non siete altro niente niente andiamo di qua andiamo di qua ce la farò eh ce la farò a chiudere questa missione non lo so vediamo allora tu è inutile che ti pari con lo scudo è veramente inutile perché poi ti inizia a colpire in maniera pesante ecco qui lo scudo non c'è più vedi non ti può parare più nulla dei miei attacchi dei miei attacchi bradi vedi oh siamo capiti chi comanda qui o no comando io punto comando io niente vai andiamo di qua andiamo di qua qua o di là no andiamo di qua andiamo di qua ragazzi ottimo così ottimo vai vai Bradona asfalta tutti e qui ci sarà la boss fight secondo me ci sarà la boss fight qui su che li asfaltiamo dai ecco dopo di questo ci sarà la boss fight ragazzi eh sì maremma kingdiana chi mi aiuta qui chi mi aiuta massa di valordi ignoranti devo pensarci sempre da solo sempre solo da solo vabbè è anche bello grosso questo non è che scherza non scherza affatto questo ma va bene va bene dai datemi una mano datemi una mano nessuno che mi dà una mano ragazzi è possibile mi viene da piangere mi viene da piangere qui dove sei? dove? no noi siamo piccoli quindi più giganti siamo piccoli ma buoni vedete qui? come li asfaltiamo ugualmente e vai troppo bello questo gioco troppo ma troppo ma troppo bello è morto? uhlala è andato ragazzi è andato le andè vai dove distruggere qui ci siamo per la boss fight secondo me ci siamo ah ok bisogna andare di là ma Remma qui continua continua ancora non ci credo ma continua ancora qui continua ancora ah è perfetto no no datemi una mano da che siamo vicini qui alla boss fight siamo vicini ok ok così ottimo bravone ottimo ottimo che stile ragazzi che stile colpisco in maniera pesante e qui salirò con un livello credo eh sto facendo un gameplay ottimo ne sto asfaltando abbastanza quindi dovrò salire per forza di livello eh sì mi avvicinerò quasi al livello 40 spero spero allora allora andiamo andiamo di qua la nostra direzione qui un po' eh eccoci ci siamo arrivati siamo arrivati per asfaltare ok ok ma gli è chiuso ancora vabbè asfaltiamo questo via vediamo un po' mi fate entrare permesso ottimo ottimo così vai da che ce la facciamo ragazzi da che ce la facciamo energy energy questo livello è veramente assurdo lunghissimo da fare veramente devastante devastante ragazzi vabbè immagino avanti costata sarà scutate sono concentrate maremma cinghiana dai uhlala sto raccogliendo componenti diciamo no ridammi la mia mano ridammi la mia mano questa è mia vabbè qui non ci riscono più voglio la boss fight voglio la boss fight ok la facciamo arrivare alla boss fight ragazzi dai su che qui il gameplay veramente arriva due ore vai così vai la grande vai la mia mano dov'è la mia mano dov'è dove siete dove siete panda di balordi andiamo di qua andiamo di qua andiamo di qua ottimo 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 vai bradone su dai che manca poco altri due ore di gameplay dai se va bene due ore dai dai però ridammi la mia mano dammi una mano su vabbè ne sono tanti ne sono tanti non finiscono più ricrescono come le formiche dai non ci credo vabbè qui mi deve far salire di due livelli cioè mi sto distruggendo 2000 eh se non mi fa salire di livello qui ragazzi vieni qui vieni qui che ci penso io a te dai che ti voglio bene guarda qui eh vedi come ti voglio bene eh guarda che parte andiamo di là la strada lì indica di qua ragazzi speriamo che c'è la boss fight perché non ce la faccio più eh non ce la faccio veramente più eh credo di sì credo che ci sarà una bella boss fight qui eh credo veramente che non sarà facile credo che non sarà facile ecco qua sapevo io sì cosa ti racconto a questo ragazzi venite qui un po' va che qui non posso far tutto da solo eh contro questo eh no eh no assolutamente no vabbè cosa ti racconto a questo dai ragazzi è impossibile una boss fight un pochettino più più leggera no eh no dai possiamo farcela però eh possiamo farcela secondo me ce ne prendiamo un po' ma secondo me qualcosa si può fare eh ce la possiamo giocare insomma dai ce la possiamo giocare o me la posso giocare visto che tanto è qui voi non fate nulla grande fratone così così colpisci colpisci come se non ci fosse un domani devi colpire dai energy dai che manca poco quindi sono quasi caricato sono quasi caricato vai ora ora si e voglio anche il trofeo se vinco eh se ce la faccio voglio anche il trofeo qui ecco mi sta asfaltando adesso eh come se non ci fosse veramente un domani dai ragazzi però colpite maremma cinghiala che questo qui non è facile da fare da affrontare su niente niente loro vanno a colpire quelli piccoli colpite questo grosso non quelli piccoli dai dai ragazzi è quasi fatta è quasi fatta è quasi fatta su ecco qua dai ci siamo ci siamo forse prendo anche grado S non lo so non lo so vedremo ma è molto probabile molto probabile secondo me ottimo così ragazzi vai abbiamo vinto abbiamo vinto siamo i più forti stop non c'è storia non ce n'è per nessuno cos'è non è finita ah scusate ragazzi non era finita ma giustamente non era finita non era finita ma giustamente vabbè si è fatto quello grande si fa anche questo qui non è che mi pongo il problema 5 minuti in più di gameplay non ci guasta dai voglio farla super ok ottimo bradone così ora lo ha spalto ora lo ha spalto ora veramente che gli faccio male qui al ragazzo ora te la vedi veramente male si te la vedi malissimo lo distruggo lo distruggo vabbè un gameplay qui sta durando mezz'ora vabbè gli appassionati perico vedranno ugualmente non mi pongo questo problema mi date una mano colpite anche voi visto che questo qui si sta allargando un po' troppo per i miei gusti e poi magari se non mi dà un trofeo qui neanche ti dico cosa faccio neanche te lo dico parlo col gioco ragazzi tranquilli tra me e me parlo con il gioco dai tu è quasi pronta super andiamo andiamo così eh bradone asfaltalo asfaltalo per bene ora uhlala quanti oggetti è missione completata e ci mancherebbe che non era completata ci mancherebbe ragazzi voglio anche il grado S qui è ovvio grandissimo bradone livello 3 ah salvo poco vabbè questi qui sono i componenti che ho preso ok ok possiamo andare vai allora ragazzi anche questo gameplay di Gundam Breaker 2 si conclude qui non mi ha ripagato neanche con un trofeo dopo una missione del genere va bene fa niente fa niente allora il gameplay si chiude qui ci sentiremo con i prossimi gameplay un saluto a tutti e al vostro Diabrotex ciao banditos eccomi qui eccomi qui mi sono girato anche verso di voi ciao 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 ciao